Ciao a tutti, oggi parliamo di riso. Per quanto riguarda le calorie assunte, è meglio la pasta o il riso? Partiamo innanzitutto dal capire quante calorie ha il riso. Ebbene, ne ha circa 340, quando la pasta ne ha circa 350. Quindi da questo punto di vista il riso presenta un piccolo vantaggio che tutto sommato però è trascurabile. Come abbiamo detto tante volte, la quantità di calorie e la densità calorica di un prodotto dipende dai macronutrienti e da quanta acqua contiene, quindi dall'idratazione. Quindi abbiamo visto che la pasta da 350 calorie per 100 grammi, una volta cotta, passa a circa 160. Quindi raddoppia, poco più che raddoppia, il suo peso. Per quanto riguarda il riso invece, l'assorbimento di acqua è molto maggiore. Si arriva a triplicare il suo peso. Quindi alla fine le calorie per 100 grammi di riso cotto arrivano a circa 120. Quindi è per questo che un piatto composto da 80 grammi di pasta è abbastanza misero, mentre un risotto fatto con 80 grammi di riso è piuttosto abbondante. Perché il riso assorbe molta più acqua e quindi ovviamente il piatto finale risulta più pesante, più voluminoso e quindi anche più saziante. Per contro però è molto più facile condire la pasta con una quantità importante di verdure rispetto al riso. Quindi un risotto fatto da 70 grammi di riso con 200 grammi di verdura, il riso si va un po' a perdere. Mentre si può tranquillamente fare un piatto di pasta con 70 grammi di pasta, scegliendo il formato giusto e abbinandolo appunto a 200 grammi di verdura. Comunque alla fine sommando i pro e i contro abbiamo sempre un piccolo vantaggio del riso rispetto alla pasta per quanto riguarda l'indice di sazietà del piatto finito. Ovviamente bisogna tener conto anche del condimento, quindi se si carica molto col burro e con i grassi alla fine un risotto può avere tantissime calorie. Tuttavia stando attenti si può sfruttare questo vantaggio del riso di assorbire molta acqua per preparare piatti molto abbondanti e con poche calorie.